E' successo che eravamo convinti che a questa installazione sarebbe proseguito qualcosa di un poco più ricco qualche mio amico, forse qualcuno nelle storie di Instagram o in quelle di Facebook ha potuto notare tra le altre cose, ricevendo delle risposte già preceduto da altri negozi, non ce ne eravamo accorti io ho tre risposte qui, nelle mie storie di Instagram mi hanno detto io l'ho fatto ieri prima di voi evidentemente noi l'abbiamo pubblicizzato, abbiamo deciso di togliere questo pannello blu ci eravamo resi disponibili perché secondo me in confronto al resto del paese siamo sicuramente maltrattati oppure mettiamola così, non voglio neanche dire che a noi ci hanno maltrattati la scelta che è stata fatta per il nostro borgo a noi non è piaciuta ma questa applicazione, questa installazione per meglio dire è sicuramente molto valida festività di Santa Anna, festività estive, avvenimenti del genere anzi direi addirittura che nelle more qualora potesse rimanere così come sta potrebbe essere utilizzata più in là d'estate, ha poco a che fare con il Natale, ha poco a che fare con tutto quello che è il periodo di questo periodo di festività, il Capodanno, il Natale magari è necessariamente cristiano però arriverà qualcuno per fare Capodanno che è una data che magari unisce tutti anche quelli che non sono cristiani, quindi voglio dire bisogna pensare con questo tipo di idee poi faccio la stessa battuta che ho fatto stamattina per essere coerente c'è un vecchio detto napoletano che dicevo Natale è cafona e quindi bisogna fare una cosa arricciata, arzigocolata, rossa a temi con quelle caratteristiche di Natale, molto semplice è un programma, magari cercare di investire i soldi in un programma di manifestazioni enormi ci tengo a dire cosa che stamattina mi è scappato basta vedere l'insieme di manifestazioni che si fanno nel comune di Forio è un protocollo di manifestazioni, non è un cartello, è un protocollo perché ce n'è praticamente tipo due al giorno è un'attività, è un'attività, è un'attività, è un'attività Grazie! Grazie!